Io credo che quando si gioca un campionato del mondo, un campionato d'Europa così intenso, c'è anche la partita dove tu devi soffrire per vincere, perché non può andare tutto liscio e tutto bello come è andato a noi fino ad oggi, perché abbiamo strameritato di arrivare alla semifinale. E sappiamo che sarebbe stata una partita durissima e sappiamo che sarebbe stata questa. Per questo credo che sia un grande merito dei ragazzi, dei giocatori, di tutte le persone che hanno lavorato in questi tre anni, perché non era semplice, quasi nessuno ci credeva e siamo arrivati a questa finale. Quindi siamo felici per tutti gli italiani che ci hanno seguito e ci stanno seguendo in questa settimana. Grazie.